Altro step di avvicinamento al campionato per il Chieti per affinare gioco, schemi e conoscenza tra calciatori. Il test dell'Angelini con la vis Cerratina, formazione di prima categoria, ha divertito il pubblico presente sugli spalti dell'impianto di Pianella, complice il 4-1 finale in favore dei ragazzi guidati da Ignoffo. La prima rete nero-verde arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo e porta la firma di Fall. Molto bello il raddoppio con un tiro a giro di Di Paolo Antonio che si insacca dopo aver colpito il palo interno. Nella ripresa il guizzo di Della Pietra, bravo ad anticipare tutti, quindi il rigore per il 3-1 del Cerratina. Infine a pochi minuti dal termine ecco il 4-1 di Tourette. Domenica prossima altra amichevole contro la Turris Valpescara, match in programma alle 17 allo Stadio Angelini.